questa caressola che qui termina però villa i confini li ha più avanti è una strada militare comunale e anche consorziale che noi adesso abbiamo visto venendo dalla caressola che anche lei le 33 titoli che ho detto però era stata abbandonata non c'era noi l'abbiamo resa fruibile e ne passano e specialmente gente non di villa ma di altri paesi noi abbiamo cercato con l'esempio sporcandosi anche le mani e faticando di fare questa opera e ne siamo orgogliosi